Questa sera volevo parlare di questi hook Facciamo una carrellata un attimino su quello che significava React finora Allora abbiamo i componenti, funzioni, oppure componenti a classe, classi, SX, classes Mettiamo caso ci abbiamo un bottone, vogliamo un bottone che è un button.jsx Partiamo prima con un componente classico e poi vediamo come funziona il componente con gli hook E poi parliamo anche un attimino di perché sono nati questi hook e che cosa significa Ho anche scritto un articolino tra l'altro, ora lo sto completando, andrà online Allora, per modificare, per avere esempio insomma un'interfaccia, un pezzo di interfaccia che reagisce a qualcosa che gli utenti fanno sullo schermo Finora abbiamo creato delle classi, no? Ok Facciamo finta di avere bisogno di un bottone che estende da component che è all'interno del pacchetto React Ora avevamo due alternative, sempre la solita danza con il costruttore Ok? Ok? Facciamo finta che abbiamo un button text While click me is Poi abbiamo un render, immagino, che ritorna un bottone, button E all'interno di questo button noi ci mettiamo, utilizziamo this.state.buttontext Oppure con il destructoring possiamo fare button text equal this.state Così abbiamo una sintassi più pulita Ok? Perfetto E cliccando su questo bottone, quindi onclick, noi vogliamo reagire e chiamare una funzione Che più delle volte di solito chiamiamo handleClick ad esempio Quindi ci creiamo una funzione che si chiama handleClick HandleClick Che è un metodo di questa classe E all'interno di questo metodo cosa facciamo? Chiamiamo this.setState Quindi il classico, insomma, lavoro, no? Per ragionare lo stato in un'applicazione Perché dopo aver aggiornato questo stato In un componente, scusa Perché dopo aver aggiornato questo stato Il bottone reagisce mostrando il nuovo test che abbiamo aggiornato Chiaramente nel costruttore dobbiamo fare sempre il solito binding Altrimenti quella funzione che abbiamo utilizzato, quella handleClick Perde il binding del this Quando viene passata come referenza uguale interno Perde il binding e non capisce più che cosa si dice SetState Quindi dirà setState is undefined Ok? Ok Ora, all'interno di setState Lo stile, diciamo, lo standard È quello di non cambiare lo stato in questo modo ButtonText ad esempio Equal, nuovo testo Bensì passare a una funzione che si chiama StateUpdater Che può essere sia una funzione che dichiari esternamente a questo setState Oppure può essere anche un inline arrow function All'interno del quale te ritorni un oggetto Che è lo stato che stai aggiornando, no? Quindi possiamo fare binClick Thanks Ok Questo è il classico modo di Diciamo partire da questa stupida applicazione Questo è il classico modo per creare componenti che hanno uno stato interno Ho dimenticato di importarla qua Ho dimenticato di importare button qua Import, button, prompt Button Vorrebbe il nostro bottone a schermo Quindi se clicco Lo stato cambia Il bottone reagisce a questo cambio di stato E il testo si aggiorna Ok? Quindi questo è il classico modo Con cui abbiamo costruito finora componenti React Per snellire un po' la sintassi all'interno di un componente a classe Possiamo utilizzare una proposal che si chiama class field E ti permette di fare una cosa del genere Ti permette di levare completamente il costruttore E eliminare anche questo binding Quindi puoi fare state che diventa un field Diventa un membro della classe Che è un concetto che è più affine a programmatori che hanno utilizzato Java Dove variabili messe in questo modo all'interno della classe sono membri di una classe Invece in JavaScript Nelle classi JavaScript Devi sempre avere un costruttore Ok? Contenendo le variabili all'interno di quella classe Con questa proposal Che ora è in stage 3 Andrà sicuramente in importo Diciamo Verrà inserita nel linguaggio finale Penso in una delle prossime versioni di JavaScript Puoi fare una cosa del genere Puoi evitare tutta la Diciamo la danza del this Del constructor All'interno di componenti Ad esempio in questo caso Classi usate all'interno del contesto di React Puoi evitare il constructor Puoi evitare il this E i metodi che sono all'interno di una classe Possono essere definiti come funzioni arrow Quindi puoi fare una cosa del genere Questo perché Se tu definisci questo handle click Come un arrow function Il binding Il this È come se non ci fosse Perché le arrow function Non hanno un binding proprio Le this Se ti ricordi Ok Quindi la caratteristica dell' arrow function È quella di non avere un binding esplicito Quindi una funzione a frecce È capace di Ti evita un sacco di paranoia Ok? Quindi un modo ulteriore Per snellire questo componente Sarebbe stato questo qui Ok? Ok Questo fa parte del linguaggio Non è strettamente Quindi è È semplicemente un modo diverso di scrivere È un modo diverso di poter scrivere le classi in JavaScript Con questa proposal che si chiama class field Ora Fin qui ci siamo Ok A novembre è uscita questa RFC Questa proposal All'interno di React Per un concetto che si chiama Ux Il motivo per cui sono nati questi Ux È semplice Se ti ricordi Ora la vediamo fra un po' Il discorso delle render prop Le render prop Le render prop sono un modo per passare a un componente Ok? Degli altri componenti in modo dinamico Ok? E lo vedremo fra poco Lo rivediamo fra poco Sì Il motivo per cui sono nati questi Ux È quello di favorire il riutilizzo della logica All'interno di componenti React Perché finora non c'è mai stato un modo semplice per riutilizzare la logica All'inizio c'erano i mixin Si chiamavano Si chiamano tuttora Che per la teoria delle classi Il mixin Ad esempio Tu prendi Python Un esempio più lampante Ci sono i mixin C'è una classe Puoi ereditare da più classi in Python Quando fai una cosa di quel tipo Ad esempio una classe a cui erediti Ha una logica che tu vuoi utilizzare Stai facendo un mixin Ok? Tu mixi le logiche di quei componenti Di quelle classi Perché vuoi riutilizzarla In React c'era una cosa simile Che comunque faceva parte delle classi in JavaScript Si utilizzava una cosa simile Per riutilizzare logica tra i componenti Altro diciamo trucco che è nato un po' dopo Quello degli Oc Gli High Gold Component Ok? Sono componenti che prendono un altro componente E ritornano un terzo componente Che in pratica Ha della logica all'interno Incapsulata E secondo questa teoria Nasce Connect Di Redux Connect è un High Gold Component Nel primo Come argomento tu gli passi Un componente Un componente Ok? Connecti gli passi MapState To Props O Map Dispatch To Props E come E tra parentesi Dopo questa chiamata che fai la funzione Gli passi un componente React Ok? Quella chiamata Crea un High Gold Component Ok? Che sarebbe Un nuovo componente React Che all'interno c'è la logica C'è le props C'è il dispatch Ok? Quindi Ci sono state queste varie fasi in React Prima il Mixing Poi gli Oc Poi le render prop Che vediamo fra poco Tutto questo per dire Che questi C'è sempre Ci sarà sempre C'è sempre stata una ricerca Nel team di ingegneri di React Verso un modo sempre più Standard e pulito Di riutilizzare logica Tra i componenti Ok? Ok Ora Gli Oc hanno questa particolarità Che non solo ci sono degli Oc Disponibili nella libreria Ma puoi anche crearne dei personalizzati Ora vediamo i due Oc Più comuni Disponibili nella libreria Allora Caso comune Componente Dove te quando clicchi Vuoi fare un cambio di stato Ok? Da oggi Cioè Questa proposal Da novembre È stata Messa in alfa No? Quindi se te scaricavi Il pacchetto alfa Di React Avevi a disposizione Questi Utility Ora è stato fatto Il merge Sul master E c'è la release Pronta Quindi se tu installi L'ultima versione di React 16.8.1 Hai Iucas A disposizione All'interno della libreria Per fare una cosa del genere Da oggi È possibile Eliminare completamente Le classi Quindi È facile immaginare Che In futuro React Tutto quello che fa in React Saranno Funzioni Ok? Le classi Verranno utilizzate Per casi Magari particolari O comunque Tutto il codice Che si è scritto Finora Utilizzava le classi Quindi Codice Ligasi Diciamo Ce ne sarà Quanto ne vuoi In giro Ok? Però immagini Tutto quello che verrà scritto Da ora Sarà tutto Funzionale Ok? Quindi Se noi volessimo Trasformare questo componente Per utilizzare Il nostro primo Hook Che si chiama UseState Come vedi L'autocomplete Me ne dà tanti Ce ne sono tanti Ok? Il primo È più importante Devi Conoscere UseState Ok UseState Non puoi immaginare Un componente Ti fa utilizzare Lo stato Ti fa utilizzare Qualche tipo di stato I hook Sono compatibili Solo con le funzioni Quindi non puoi utilizzare Un hook Con una classe Ok? Quindi questo ti fa capire Perché dobbiamo utilizzare Funzioni Quindi la prima cosa Che dobbiamo fare Leggendo la documentazione C'è scritto I hook Non sono compatibili Con le classi Quindi la prima cosa Che mi viene in mente È quella di Trasformare questa classe Da classe A funzione ExportDefaultFunctionButton Ora Questo va via Perché non ha più senso Di esistere E viene sostituito Da una chiamata UseState Ok? All'interno di questo UseState Ci metti il tuo stato iniziale Il mio stato iniziale In quel caso Era ClickMePlease Ok? E quando il componente Gira Tra virgolette Viene creato Appare a schermo Questa UseState Viene chiamata E ci ritorna Due valori Il primo valore Questi nomi Li scegli tu Non sei obbligato A scegliere per forza Quello che sto scrivendo io Li scegli tu In base a come vuoi chiamare I tuoi Le tue variabili Quindi in questo caso Un ButtonText Quindi magari Se sto facendo Un refactoring No? Chiaro che questo Me lo mantengo Sempre come ButtonText Si posso evitare Di modificarlo Qua sotto No? La prima variabile Lui ti ritorna ButtonText Che praticamente Prende Il valore Che ha inserito All'interno Come argomento L'interno di UseState Quindi questo ButtonText Prende in automatico ClickMePlease Il secondo valore UseState Ritorna È lo StateUpdater È una funzione Che io chiamo SetButtonText Quindi immagina Che lui ti dà Direttamente Uno StateUpdater È come si chiamasse This.setState Da qualche parte Nel codice Ok? Quindi si utilizza Quella funzione Poi invece Che Si utilizza Quella funzione Siccome Siccome non siamo Non siamo più In una classe Qua siamo In una funzione Chiaramente Questo va via Perché non ha più senso Abbiamo già Un ButtonText Come variabile Il metodo Render va via Perché non ha più senso Ci rimane solo Return Con LongClick A questo punto Qui invece di This.handleClick Abbiamo SetButton Ora SetButton Non puoi chiamarlo In questo modo Ok? Perché È una funzione Noi sappiamo Che per chiamare Allora OnClick Cosa prende? OnClick Prende una funzione Ok? E noi Gliela dobbiamo passare Come Arrow Function Che chiama poi Questo SetButton Ok E ora Che cosa diventa? BeamClick Thanks Ora Se tu preferisci Come preferisco Anche io Utilizzare Una funzione Regolare Al posto Del Arrow Function Qua Puoi fare una Function HandleClick Che ritorna SetButtonText E qui ci metti HandleClick Ok? Ok Questo è refactoring Quindi da classe Ora stiamo facendo esempi banali No? Però ti immagini Insomma Da classe A funzione Cioè Questo apre un mondo Di possibilità Per il codice Per il nostro codice Come organizzazione E se andiamo a vedere L'applicazione Nel browser Funziona tutto come prima Se clicco Funziona tutto come prima Se vado Nella Nella React Nel React DevTool E vado su questo Button Come vedi Hanno aggiornato Anche React DevTool Con gli hook Quindi ho a disposizione Anche qui all'interno Gli hook Cioè mi dice Quali hook sto utilizzando All'interno Della mia applicazione Quindi purtroppo Per chi ha studiato React No? Ora è arrivato il momento Purtroppo Di nuovo Ristudiare Un po' Perché L'API È cambiata Ma Nel caso Di un refactoring Di un'applicazione Già scritta Nel modo classico Gli hook Sono Sovrapponibili Nel senso Possono convivere Diciamo Con altre Parti L'applicazione Non è che va Non necessariamente Va cambiato in toto Ovviamente Una classe Passa Allora ci sono varie Diciamo filosofie Ci sono quelle lì Che già a novembre Si sono rimesse a scrivere Le applicazioni Già avevano Tutti quanti Per utilizzare Gli hook Cosa io ritengo Un po' avventata Perché comunque Finché lo fai Per giochino Ci sta Però Quando ti hai scritto Un'applicazione Per un cliente Comunque stai lavorando In un team Stai scrivendo Un'applicazione React Non è che appena esce Una cosa nuova Telebuy Di scrivere Tutto da zero È improponibile Perché comunque Finché lo facciamo Sì a titolo Di esperimento Finché uno gioca Con le applicazioni Può fare Ve lo ripare Però immagine In un'azienda Dove ci sono Dei processi Ben precisi Di Refactoring Scrittura Il codice Budget Tutto quanto Cioè Te non è che puoi andare Dal tuo manager Dici Guarda Sono sci-review Che faccio Iscrivo L'applicazione È improponibile Quindi ci sono due filosofie Gente del novembre Si è messa a scrivere Applicazioni Gente sta guardando Come me Quali sono le possibilità Come infatti Vesta Io gli ho toccati ieri Cominciai a scrivere Un piccolo componente Per Per un prototipo Che sto facendo E tu ma sai Vediamo questi hook Come funzionano Ed è ieri Gli ho toccato la prima volta Non mi sono azzardato Io a riscrivere roba Fatto sta Perché se te vuoi riscrivere Qualcosa che già hai in mano È chiaro Puoi fare piano piano Refactoring Senza Poi anche non toccare Il codice vecchio Perché comunque Considerare le classi Non te le tocca nessuno Comunque Fanno parte del linguaggio React Prevede di supportarle Come compatibilità Quindi non scompariranno mai Anche perché Se scomparissero domani Insomma Il 100% Dell'applicazioni Sono state costruite Non funzionerebbe più Quindi è improponibile Nella società Però Fatto sta Che Questo codice Questi hook Possono convivere Con codice Che già hai Però devono essere Devono essere componenti funzionali Ok Però questo per me Apre Delle possibilità Interessanti Perché Tipo Quando c'è Quei componenti Che devono avere Uno stato interno E devi capire Devi fare la separazione Di ciò Che devo creare Un container Che c'ha Lo stato E poi passa Le prop A questo componente Presentazionale E poi devi fare Il giochino Delle callback Passate dal Componente classe Verso il componente funzionale In modo che Se io Questo fosse stato Un componente funzionale Accettavo le prop Dall'esterno Cliccando Questo avrebbe fatto Scattare una funzione Sulla classe Sul parent Quindi si aprono Le possibilità Di semplificazione Del codice E Non solo Te che cosa ne pensi Di questo Di questi Come la vedi Rispetto a Un modo classico Ma penso Forse anche A livello di testing Può essere Può facilitare Anche a livello di testing Anche a livello di testing Facilita Perché Tu puoi anche Banalmente Io prevedo Dipende Poi queste sono Previsioni Un po' Farlock Però prevedo E magari Farai meno Test integrazione Quando c'hai Diversi componenti Legati Perché Se io Se io prima Avevo Un container Per un bottone E una presentazione Per il bottone Un domani Avrò un solo componente Testo Solo quel componente Quella è l'idea Più o meno Bene o male Ok Quindi anche Dal punto di vista Del testing Ci saranno Di vantaggi Perché no Sembra più pulita Come scrittura Sembra più pulita Una scrittura Anche perché Insomma I motivi per cui Sono stati Introdotti questi hook Tra l'altro Sia per il fatto Di riutilizzo Della logica Ora non si vede Perché Ripeto È un esempio Banale Però questo Use state In pratica Incapsula Un set state Uno stato interno Ok Quindi questo Vive all'esterno Del componente Quindi già ti fa capire Che questa logica È stata incapsulata E portata all'esterno Ok Poi tra le varie Tra i vari motivi Per cui sono stati creati Questi hook Sta il fatto Che molte persone Non hanno difficoltà Con le classi Perché hanno sempre Lavorato con javascript A livello Insomma Non voglio dire base Però Senza Tanta Senza che Una grossa organizzazione Ora con le classi Chi ha programma Chi viene da java No Può organizzarsi In questo modo Magari c'è gente Che ha lavorato Sempre in modo procedurale Con le linguagge Di operazione Procedurali Quindi non si trova Tanto con le classi E le funzioni Sono più chiare Perché comunque Function E function Non c'è Non devi fare grossi Ragionamenti Per capire Che cosa fa Questa function Tutto qua Certo Bene o male Sono questi I vantaggi Poi ce ne sono altri Che usciranno fuori Man mano Quindi il primo Quindi il primo hook Quello più importante È il use state Use state Quando devi Quando hai uno stato interno All'interno del componente Userai il use state È chiaro che il use state Può accettare Può accettare Qualsiasi tipo di dato Quindi puoi avere un array Puoi avere un oggetto Puoi precotipare Quando hai più chiavi Ne usi due Della serie Quando hai più pezzi di stato Da gestire Chiami un altro use state Ok Quindi se in questa cosa Se questo componente Avessimo Un input Per esempio No Con del testo Tu faresti un Che ne so Input text Set Input text Use state Immagino che sia Please Give me your name Per esempio Quindi E poi usaresti Questo set input text All'interno di un On change Ok Sempre con un'altra funzione Per esempio Handle change Ok Quindi Di questi Ne puoi avere Quanti ne vuoi Quindi rispetto a prima Non hai un unico Oggetto state No Non hai un unico Oggetto state Ma vedi Se tu vuoi mimare Diciamo Un oggetto Con varie Proprietà Quindi vari pezzi Di stato Sono questi Corrisponderebbero Una rivista Che corrisponda Alla proprietà Di quello Oggetto Dis.state Con relativo State update Secondo me È molto più Conveniente Perché prima Dovevamo fare Handle click Poi Dis.bind Tutto quanto Poi all'interno Lendo il click Devi chiamare Dis.state All'interno Dis.state Ci rimette Una state A breve Function Quindi Una classe Diventa molto verbosa Per usare Un termine Inglese Ok Quindi Dal punto di vista Stilistico E descrittivo Io penso Ci sia un grosso Progresso Quindi Use.state Ogni volta Ti serve Modificare Lo stato Di un Qualche componente Ok Quindi non c'è più bisogno Di utilizzare Le classi Altro caso Data loading Quando noi Abbiamo un componente Cioè Perché si scrive Un componente A classe Tante volte Perché Abbiamo bisogno Del component Di il mount Se io guardo La documentazione Se noi guardiamo La documentazione Di React Perché io Sono Gli stessi passaggi Ho fatto io Perché finché Non era finalizzata Queste API Io mi sono rifiutato Di Di Utilizzarla Di Leggere Nella documentazione Quando è stata Finalizzata Una settimana Due settimane fa Sono a leggere Una documentazione E Ho guardato un po' Qui Introducing Books Qui ti spiega Il perché Sono stati Introdotti Gli hook La motivazione Poi in questa pagina Ci sono Gli hook principali C'è Use state Ok Ci ho messo Un po' 10-20 minuti A capire La logica Perché io Appena vedo Le prime cose La prima volta Non mi quadrano Ci devo ragionare Un po' Sopra Quindi ho visto Che questo Use state Lo importava Però non riuscivo A capire Che cosa Significasse Questo use state Zero Poi ho capito Che questo zero Si riferisce Al count E quando noi Vogliamo aumentare Questa variabile Count Chiamiamo set count Count Più uno Quindi ho imparato Questo use state Hook Quindi poi mi sono detto Ma per fare una chiamata API Perché io stavo facendo Un prototipo Per una cosa Canza Devo chiamare Un API Per recuperare Dei dati Ho detto Ma vediamo Utilizziamo Questi hook Scendendo in giù Qui ti fa vedere Anche come Insomma Quando hai bisogno Di utilizzare Più Pezzi di stato Scendendo in giù Ho incontrato Questo Effect Hook E mi dice You're likely Perform data Fetching Subscription Or manual changing Edom Blablabla Sono i side Classici side Effect Quindi quello che mi interessa A me era Data fetching No? Però il primo esempio Mi aspettavo di trovare L'esempio di data fetching Di un fetch Un axis Qualcosa Ok Però la cosa interessante Qua che si legge È che questo Use effect Sostituisce Sostituirà Component Did mount Che come Sappiamo Viene lanciato Quando Il componente Viene montato A video Diciamo No? Sì Questo component Did mount Ed è il metodo Life cycle Metodo All'interno Di cui noi Di solito Chiamiamo Le API Sostituisce anche Component Did update Component Did update È un metodo Che parte Quando il componente Riceve delle Prop aggiornate Quando lo stato Cambia Ok Did update Viene lanciato Automaticamente In questi casi Il componente Will mount Ti dice anche Il nome E quando il componente Sta per sparire Dalla schermata Hai la possibilità Di fare Tipo un clean up Di qualche funzione Di qualche timer Di qualcosa Che hai All'interno Di component Will mount E io penso Il fatto è Loro Con un singolo Metodo Ne risparmiano Tre Che penso Sia una cosa Vantaggiosa Dal punto di vista Del programmatore E di chi vale Il codice Ok Quindi Stanno andando Sempre verso Una semplificazione Sempre più estrema Di quella Che era la vecchia API Di React Ora Io Ero impaziente Di provare Questo Questi hook Però Non c'è un esempio Con un fetch Allora Che ho fatto E lo facciamo Anche io Ragioniamoci sopra Creiamo un componente Si chiama Data loader Guardiamo La render prop Un attimo Allora Facciamo finta Allora Prepariamoci un attimo Un veloce veloce Un serverino A json server Si Si Che prende Se ricordo bene Un db.json All'interno del quale Gli posso dare Le mie route Quindi Sempre gli diamo Links Che è un array Di oggetti Il primo oggetto Gli diamo ID1 Titolo Gli diamo React Redux Tutorial Poi ne creiamo Un altro ID 2 Titolo Django Testing Tutorial Tanto per cambiare Poi Package Package Json Ci facciamo Uno script Di comodo Per lanciare Questo serverino Che fa Json Server Watch Source Db.json E lo mettiamo Sulla porta 3001 Perché sulla 3000 C'è già React Certo Pm Run Server Eccolo qua C'abbiamo Un link C'abbiamo Un API C'abbiamo Un nostro API Ora Come si fa Il data Fetching Come si faceva Diciamo Come si continuerà Anche a fare Il data Fetching In react Con una classe Nessuno ti vieta Ripeto Di utilizzare Classi Quindi puoi farlo Senza problemi Component Qui utilizziamo Per comodità La Sintassi Classfield E gli diamo Data Un array Poi Component Bidmount Facciamo Un fetch Facciamo Un fetch HTTP Local Host 3001 Links Ben Abbiamo Una Response Che va Trasformata In json E poi Qui Non Ora non controlliamo L'errore Perché siamo Pigri Però andrebbe Controllato L'errore Andrebbe Controllato Ress Dot Response Dot Ok Certo Se è true Proseguiamo Se è false Facciamo un Throw New Error No E poi Questa promise Ci ritorna Il json Ci ritorna Sì Json All'interno Di questa Arrow Function Noi Chiamiamo Dislot Set State Che prende Una Funzione Arrow Ok Che ritorna Un oggetto Che sarà Questo lo possiamo chiamare Data Così qui Facciamo lo short end E chiamiamo data anche lui Ok Compone DeepMount Ora Render Ci facciamo il render Di una bella lista Però Ci abbiamo Ci abbiamo qua un problema Perché Map This This State Data Dot Map Element Li E qui ci stampiamo Li Dot Title E qui gli diamo la key Se no si cavola Element Dot Id Mi pare Siamo ok Ora ci importiamo Questo componente Qua Data Loader Eccolo qua Bottone Lo Leviamo via Non ci serve più Sta Vediamo se funziona tutto Ok Ci abbiamo i titoli Degli articoli Ok Ora Quindi Questo qui È il metodo classico Ancora una volta Per Chiamare un API Da una classe Ok Ci serve una classe Perché la classe è lo stato E perché soprattutto Questa classe È un component Did mount Ok Altrimenti Non possiamo chiamare L'API All'interno di una funzione Un componente funzionale Questo componente Ha un problema Ed è il problema Per cui Nel corso del tempo Si sono inventati Questi vari pattern Prima i mixing Poi gli hoc Poi le render prop Le render prop In realtà Non sono state inventate Era una cosa che già esisteva Però a un certo punto Un annetto e mezzo fa Qualcuno gli ha dato Un nome preciso Sembrava fosse stata scoperta Qualcosa Il problema è che Questa lista è fissa Quindi se noi vogliamo Creare un componente Che si chiama Davvero data loader Che prende qualsiasi tipo Di componente Ad esempio Questo url Gli possiamo passare Anche come props Ad esempio No? Si Se vogliamo creare Un componente dinamico Che mi fa il rendering Di qualsiasi cosa Di passo qui all'interno Posso utilizzare Questo pattern Della render prop Ovvero Ovvero Qui Mi aspetto Un This dot props Dot render Quindi la prop E gli passo all'esterno Si chiamerà render Ok? E questa render È una funzione A cui posso passare Lo stato interno Quindi questo Wimmy diventerà disponibile All'esterno Questo componente Si usa Passando qui Una prop Che si chiama render Che come abbiamo visto È una funzione All'interno del quale Mi ritorno Quello che voglio Renderizzare Passami il termine Solo che non devo dimenticare Qui di dargli Data Altrimenti Non riesci a capire Cosa sto cercando Di passargli Quindi salvando Questo codice Funziona tutto Come prima Ok? Ho reso Questo componente Aperto Per l'estensione Ok? Gli posso passare Delle cose dall'esterno Senza andare a modificare Quello che c'è All'interno Che è una grandissima Cosa Ok? Non è finita qua Hanno inventato Questi hook E ora è cambiata La storia Ok? Quindi andando a guardare La documentazione UseEffect Che cosa ho fatto? Ho importato UseEffect Qua Ok Ok? Poi Sapendo che non posso Utilizzare le classi Con Yook Questo video Lo trasformo In una funzione Ok? Questo stato Diventa A questo punto Devo chiamare Anche UseState Questo stato Diventa Un array Quindi Const Data E poi posso Chiamare una funzione Che si chiama SetData UseState Mi diventa Quest'array Ok? Ci siamo Fin qua? Si Ti trovi? Si Si Perfetto Ora UseEffect UseEffect Se guarda la documentazione Eccolo qua E' una funzione Al cui è interno Io devo chiamare Un'altra funzione Qui c'è una funzione Arrow Ok? Perfetto Andiamo a vedere Immagino che io posso Situire questo Component LeadMount Quindi mi prendo Parametri Come argomenti Scusami Create E gli inputs Che cosa saranno Questi inputs E questo create? Intanto ho visto La documentazione Mi prendo una funzione Ok? Quindi se Tanto mi dà tanto Immagino Di poter fare Una cosa del genere E di metterci dentro Fetch Render va via Perché non è più Un metodo disponibile All'interno Questa funzione Ok Ora vediamo Se va via pure Props Per il momento Ritorniamo Null Ora Guardando Questo codice Secondo te Che cosa devo fare Io per farlo funzionare Con Duke? Devi Setup Setup Data Deve essere Impostato Da qualche parte Perfetto Set data Va Qua Al posto di Set set Data E gli passo All'interno Data Ok Ora Riprendiamo questa lista Un attimino Ci abbiamo qua Eliminiamo Questo render Da qua Perché data Loader È diventato Di nuovo Un componente Per conto suo E qui Mi ritorno Tutto Data Perfetto Ce l'abbiamo Quindi lanciamo Il componente Vediamo cosa succede A me piace Questo nuovo stile Ti dico la verità Perché mi piace La funzione Sembra funzionare Possibile Sì Funziona Mi sembra strano E funziona Il primo colpo Ti dico la verità Quando succede Mi sa che sono Un po' Spirifato Quindi State Effect Quindi Luke Sono in azione Ok Quindi Da Però Come vedi Guarda che cosa Succede qua Sì Si apro la console De browser Network Guarda che cosa Sta combinando Sta chiamando In loop L'API Ah Tutto Ok Stoppo L'applicazione E vado a guardare Qui ancora Lavora Se non chiude Il browser È chiaro E lui Va diritto Va diritto Proprio Ok E Andiamo a guardare La documentazione Cioè All'inizio Non mi è sembrato Subito chiaro La cosa Però Quando poi M'ho riletto Questo fatto qua UseEffect Ha lo stesso compito Di component Did mount E ci sta Perché quando il componente Viene montato Parte questa funzione E fa Quello Component Did update È una funzione Viene lanciata Ogni volta Il componente Fa Un cambiamento Di stato O riceve O riceve Delle props Nuove Quindi Mi sono cominciato A insospettire Se Chiamo UseEffect Che Aggiorna Lo stato E quando Aggiorna Lo stato Lui Chiama Sotto Un component Did update Qualcosa È un loop Ok Guardando Nella documentazione C'è a un certo punto Una nota Vediamo se Qua O nell'altra pagina Era nella Ecco Già qui Secondo me La documentazione Può essere migliorata Perché Se tu segui Quello che dice Usi fetch Ti trovi in questo loop Che non sai Come fermare Se vai su questa pagina Using the effect book Ci sono Delle altre Informazioni Che Sono Da queste Parti So Use effect Gira Ogni volta Che c'è Un update Ad ogni render Ok Anche qui Mi sono Cominciato A risultare Vediamo se Ti trovo Quel pezzettino Di codice Però Neanche Qui Neanche In questa Pagina Ah Eccolo Ti dovresti Leggere Tutto Ok Però Ero Ero Impaziente Di provare Come funzionava E Poi Quando sono Arrivato Qui Perché Effect Gira Ogni update Ti spiega Perché lui Sostituisce Sia Component Mount Component William Mount Component Update Date E da qualche parte Qui spiega In minuscolo Che You can tell You can tell Reactors Keep applying An effect If certain values And change Between Renders To do so Pass an array As an option Argument Use effect Quindi Cosa dice qui Che Use effect Gira Solo se Count Cambia Ora Se non gli passi Count Lui assume Che Quell'use effect Deve girare Ogni volta E lo stato Viene aggiornato Ok Per evitare Una cosa del genere Addirittura Te lo mettono Alla fine Secondo me Questo andrebbe Ragionata La documentazione If you want To run An effect And clean It up Only once Quindi O nel mount O nella mount You can pass An empty array As a second argument Quindi Per uscire A questo loop Dobbiamo passare Il primo Argomento Della funzione E La raw function Chiama il fetch Il secondo argomento Deve essere Un array Vuoto Se gli do A questo array Vuoto Il loop Si stoppa E Questo Use effect Ha lo stesso effetto Di un component In mount Infatti Se apro la console Vedo un'unica chiamata All'ins E basta Quindi Secondo me Questo è un È un bug Anche di documentazione Perché tu non puoi spiegare Una cosa del genere Alla fine Di una pagina Lunga Così lunga Ok Secondo me Ok Fatto sta che Questa è la storia Quindi Use effect Sostituisce Component did mount Component did update E component will Unmount Che dal punto di vista Del Dal nostro punto di vista È ottimo Perché ci siamo levati Un sacco di Rotture di scatola Ok Però da un altro punto di vista Non sono tanto convinto Perché basta Dimenticarci un array Ti immagini Uno manda un'applicazione In produzione E si dimentica Di mettere Quelle array Lì Esplode tutto Esplode tutto Davvero Ora Un altro piccolo refactoring Che ho voluto provare Quando Stavo giocando Con use effect È utilizzare Async await Ah Ok Quindi ho fatto Una cosa del genere Async E Poi qua ho fatto Const Const JSON Anzi Const Response Await Fetch No? Ok Poi ho fatto Const JSON Await Response JSON Poi ho chiamato SetData Questo va via E rimane SetData Che è bello Ancora più pulito C'è una parentesi Sì c'è una parentesi Qua? No Allora Const Await Const Await Forse è una parentesi In più Proprio Questa qui Ok Perfetto Ho provato a fare Una cosa del genere Che è molto Molto più pulito E bello Proprio da vedersi No? Ah ok Questo lo posso chiamare Data Ok Ho provato a fare Una cosa del genere E ho visto che Non funziona Funzionava Funzionava Però mi dava nella console Quel terrore Mi dice Un effetto Non deve ritornare Nient'altro Che Oltre a una funzione Però Che è usata Come clean up Questa funzione Però Io in realtà Quando faccio Una cosa del genere Async Await Ti ricordi che cosa Ritorna Questa funzione? Una promise Esatto Ritorna una promise Quindi lui mi dice Guarda Use effect Deve ritornare solo funzioni E mi dice proprio It looks like Use effect Async Ok Or return a promise So E quindi lui mi dice Guarda Invece di fare Una cosa del genere Scrivi la funzione Vedi Scrivi la funzione Asincrona Fuori da use effect All'interno di use effect Ci usi quella funzione Asincrona Quindi Devi fare una cosa del genere Async Function Get data Nessuno ti vieta Di scrivere funzioni All'interno di altre funzioni Ok Ora sicuramente Può arriverà qualcuno E dice Eh ma queste funzioni Dentro le funzioni Non sono tanto chiare Sicuramente arriverà qualcuno E vi dirà Queste cose Però E ti chiami Get data Qua Ok Ok E tutto funziona Come sempre E l'errore è sparito Dalla console Ok Quindi use effect Get data Attenzione all'array Vuoto Altrimenti Ti va in loop E poi c'è questa funzione Asincrona Che ti chiama L'API Chiaro E se tu sposti Questa funzione Chiaro E se tu sposti Questa funzione Qua Set data Non è più Accessibile Ok Quindi te dovresti Passaglielo Come parametro In questo Get data Cosa diventa Un po' Strana Ok Oltre che Sconveniente Quindi il motivo Per cui teniamo Queste funzioni All'interno Della funzione È dovuto A questo fatto E alla fine Non cambia tanto Rispetto A un metodo Get data Che avremmo avuto All'interno Di una classe Ok Ok Quindi questi Sono gli I hook In React Ce ne sono Anche altri E li vediamo Sicuramente Nelle prossime O te lo puoi Anche Suggere da solo Insomma Non ci sono problemi Però Quello più importante Use state Ora Use state È quello Che non Andrà via Mai Nel senso Che Questa Si stabilizzerà Queste API Siamo sicuri Questa qui Sarà utilizzabile Nei nostri Componenti Il discorso A parte Per Chiamare Le API All'interno Di Use Effect Perché Component Did Mount Component Did Update Component Will Unmount Sono state Sostituite Da Use Effect Non ci piove Ok Però Ti dicevo Anche Che Lo standard È quello Di Spostare La logica Asincrona Fuori Dai componenti Quindi L'avevamo Messe Redux Redux Sire Ok Nelle Future versione Di React Dove sta per essere Implementato React Suspense Questo Data Fetching Non si prevede Questo data Fetching Si pensa Ci sono Insomma Grosse probabilità Che Questa logica Venga Spostata E non sia Più Questa logica Insomma La best practice Sarà quella Di non tenerla All'interno Del componente In questo modo Ma spostarla All'interno Di qualche Altra cosa E ancora Non tanto Chiara Quindi Mentre Per Use State Se c'è I componenti Che possono Essere Riscritti Puoi Utilizzarlo Se c'è I componenti Nuovi Puoi Utilizzarlo Invece La logica Asincrona All'interno Di Use Effect Non è Non pare Che non sia Ancora Una cosa Stabile E recepita Dalla community Anche In virtù Delle modifiche Che faranno Delle novità Che introdurranno Con React Suspense Quindi Se io dovessi Riscrivere Qualche componente Di una Qualche applicazione Utilizzerei Senz'altro Use State Perché È stabile Quello è Use State E non si Scappa Ma se dovessi Discrivere Logica Asincrona A parte Ce l'ho Non ce l'ho Nei componenti Ma Non la Descriverei Per utilizzare Use Effect Perché sarà Soggetta A cambiamenti Queste Poi Come Uc Ce ne sono Anche Altri Uno Interessante È Use Reducer Ancora Non l'ho Non l'ho Utilizzato Però Funziona Come Un Reducer Di Redux Quindi È Interessante User Reducer È utile Quando C'hai Ora Qua C'abbiamo Uno Stato Forse Due Forse Tre Ma Quando C'hai Dieci Quindici Io Penso Che uno Si mette Quindici Stati Diversi All'interno Un componente È un pazzo Però Metti Caso C'hai Dei requisiti Particolari Quando Ti trovi A gestire Uno Stato Di Quella Dimensione Utilizzi User Reducer Perché Ti permette Di fare Delle cose Molto Più Performanti La sintassi È quella Di Un Reducer Redux Puoi Usare Uno Switch O Un If Hai Più Controllo Su Quello Che Vuoi Cambiare Ad esempio Immagino Quando Due Pezzi Diversi Di Stato Devono Essere Relazionati L'uno Con L'altro Magari Vuoi Confrontare O Quant'altro Usi User Reducer Perché All'interno Puoi Accedere A Tutti Quanti Ok Ok